Gli agenti della sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti sull'autostrada 19 Palermo-Catania, hanno fermato un tir che all'uscita della Galleria di Tre Monzelli, nella corsia in direzione di Catania, faceva retromarcia creando grave pericolo per la circolazione stradale. Il conducente è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 176,1 e 20 del Codice della Strada. L'uomo, infatti, dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 430 euro e subirà una decurtazione di 10 punti sulla patente. Il tratto di strada dove l'autista del TIR ha commesso l'infrazione è al momento caratterizzato da una deviazione sulla carreggiata, rendendo quindi qualsiasi manovra vietata ancora più pericolosa rispetto alle condizioni regolari della circolazione. La violazione di tale divieto sussiste anche se la retromarcia è avvenuta solo per pochi metri. È perciò sanzionabile il comportamento del conducente che, avendo superato per distrazione il punto di uscita prefissato, recupera in retromarcia il tratto percorso in più. La manovra di retromarcia in autostrada è vietata anche sulle rampe, sugli svingoli e anche sulle corsie per la sosta di emergenza.